Quanto più saremo vicini a Cristo, tanto più saremo uniti tra di noi. Così Papa Francesco ricevendo il Comitato Congiunto del Consiglio delle Conferenze Episcopali Cattoliche Europee e della Conferenza delle Chiese Europee. Nel corso dell'udienza il Pontificio ha espresso soddisfazione per quanto è stato fatto in ambito ecumenico, auspicando ulteriori passi in questa direzione. Occorre trovare aggiunto risposte comuni alle domande che la società contemporanea pone a noi cristiani, evitando visioni diverse su importanti questioni antropologiche o etiche. Oggi le Chiese e le comunità ecclesiali in Europa si trovano ad affrontare sfide nuove e decisive, alle quali possono dare risposte efficaci solo parlando con una voce sola. Penso, per esempio, alla sfida posta da legislazioni che, in nome di un principio di tolleranza malinterpretato, finiscono con l'impedire ai cittadini di esprimere liberamente e praticare in modo pacifico e legittimo le proprie convinzioni religiose. Grazie a tutti.